ah mi sono dovuto mettere gli occhiali perché la luce era troppo forte in questa partita ma quale luce? uah niente di me ne hanno scintillato tutti dal primo all'ultimo minuto io ho un paio di loro da fanamunnezzi in realtà come mi fa piacere che l'hai vista ma perché tu sei sempre quello là che va a notare più il pelone e l'uovo hanno emesso una luce abbacinante wow mamma mia nel primo tempo soprattutto anche nel secondo nel primo tempo c'è veramente azioni bellissime fatte proprio bene con i tempi giusti un gong su tutti e praticamente per l'ennesima volta va a riconfermare che è il più grande mistero dell'era dell'Aurentis a questo punto io perché un giocatore così tanto decisivo ogni volta che entra che non si è ancora guadagnato il minutaggio che in teoria doveva guadagnarsi dopo tutte queste cioè se io non ho controllato ma probabilmente se andiamo a vedere il rapporto goal e minuti giocati in gong è quasi da attaccante da punta centrali anzi forse è superiore a parecchie punte centrali che abbiamo avuto e per l'ennesima volta ha fatto una partita clamorosa andando proprio a mandare non un messaggio cioè gli ha riempito di messaggi il telefono di Antonio Conte stasera perché veramente ha fatto tante cose belle dall'altra parte David Neres cioè ne vogliamo parlare ma pure il modo in cui si sono associati mazzocchi e Neres lo botca con Neres hanno fatto non so quante volte lo scambio che riusciva soltanto a Zielinski e Kvara nell'anno dello scudetto te la do tu con il tacco me la ridai poi te la ridò un'altra parte cioè hanno fatto questa tutta la partita ma poi quanto mi è piaciuta lo scambio costante e continuo che hanno avuto Raspadori e Ngong per tutta la gara perché quello secondo me ha proprio mandato al bar tutte le marcature del Palermo perché ogni volta o Raspa o Ngong per via centrali si trovavano sempre liberi ogni volta che si scambiavano di posizione e questa cosa secondo me è da riutilizzare perché è veramente devastante ma poi tutti bene addirittura Neres ha fatto fare gol a Juan Jesus da calcio d'angolo per il momento due calci d'angolo e due assist li deve battere sempre Neres a questo punto calci d'angolo Spinazzola che all'inizio partito mi pareva Ronaldinho Prime Adegasla Adegasla ma che è infermabile ma pure Mazzocchi che ha provato e riprovato è stato fermato e non può fare una volta ha fatto pure un paio di figure di merda interessanti però gli sono riuscite anche un sacco di cose cioè veramente Simeone vogliamo parlare di partita Simeone è esagerato l'impegno ma pure gli scambi che sono riusciti il centro del campo è Gilmore Lobotka cioè qualità penso che hanno sbagliato uno passaggio in due ma lo stesso Rafa Marin che magari è quello che adesso tutti si ricorderanno i due passaggi sbagliati ma io penso che sono stati gli unici due passaggi sbagliati di Rafa Marin in questa partita anzi io mi ricordo veramente delle giocate di personalità da parte di questo ragazzo io veramente mi invito a non giudicare la partita in modo così superficiale perché se guardiamo soltanto quei due passaggi è ovvio che uno deve dire che c'è qualcosa che manca a Rafa Marin invece ha fatto una partita completa ha fermato un sacco di contropiedi del Palermo cioè rispetto a Juan Jesus che addirittura ha trovato il gol è stato molto più sicuro negli interventi e io sinceramente non vorrei che vabbè sicuramente sarà così ma quei due passaggi gli hanno praticamente rovinato l'immagine di una partita che era stata fatta benissimo eppure Caprile io inviterei a certo ma magari qualcuno sta iniziando a capire che comunque Meret forse non è poi così tanto male però pure Caprile non fa niente che ha sbagliato cioè non fa niente che ha sbagliato Caprile quell'uscita cioè è grave attenzione però almeno è stato bravo a non commettere fallo secondo me poi aveva avuto delle incertezze pure palla al piede però ci sta cioè secondo me pure lui quello che magari ha fatto meno peggio di tutti perché alla fine non è stato neanche poi così tanto impiegato a parte per quel palo che ha preso il palero per il resto veramente tutta la squadra ma pure quelli che sono entrati ma Zerbin avulato in questa partita chissà recuperi su recuperi drogato pure lui Kvara Lukaku e McTominay sono entrati veramente con la voglia di dire non ci capite voi avete segnato i sostituti voi siete dei sostituti siamo noi i titolari hanno mandato l'ennesimo messaggio cioè sta partita per me è da incorniciare perciò mi sono miso in lento io soprattutto mi sono fatto ammaliare dal non solo dalla bravura tattica ma proprio dalla dimostrazione che il Napoli di Conte sarà così quando è nella veste in cui vorrà dominare la partita e immagino che tutto sommato non sia un'immagine così tanto brutta per coloro che vedono l'estetica del gioco come qualcosa di importante di fondamentale perché Napoli è stato molto bravo a giocare sul pressing del Palermo soprattutto nel primo tempo perché poi nel secondo abbiamo fatto un po' quello che volevamo non dico che sono saltati gli schemi perché non è affatto così ma nel secondo tempo abbiamo semplicemente viaggiato sulle ali dell'entusiasmo vabbè pure l'espulsione ha inciso un pochino nel finale perché poi già stiamo dominando 11 contro 11 poi 10 contro 11 ancora di più tra parentesi non so se hai sentito il telecronista che non è espulsione ragazzi è espulsione non esiste proprio cioè gamba in faccia c'era di un capo c'era i tacchetti sulla fronte quella espulsione sempre eh ma il giocatore non andava con l'intenzione di farlo ma non significa niente espulsione eh ma che poteva fare poteva andare di testa come ha fatto Gilmour che è qualche centimetro in meno di come si chiama Vasic che invece ha deciso di andarci a gamba tesa quindi la vieni punito sempre scusa se ti interruttori sì ma io non ho capito neanche la faccia che ha fatto lui se il giocatore che ha subito l'espulsione perché se a Vasic arriva un calcio in testa a priori di come arriva te lo puoi aspettare il russo poi noi sappiamo che su questo tema gli arbitri possono fare i fiscali o no ma non si può discutere a norma di regolamento a norma di regolamento quello è russo sì dicevo semplicemente a me è piaciuto molto perché noi abbiamo costretto il Palermo ad aprirsi per andare in pressing poi il Palermo è stato anche coraggioso se non proprio temerario a cercare di venirci così tanto addosso addirittura sul portiere e noi poi offendevamo perché avevamo la superiorità tecnica per superarli agilmente ma al contrario di quello che la gente ha pensato in linea generale di quello che sarebbe stato il Napoli di Conte non l'abbiamo fatto soltanto lanciando negli spazi larghi giocatori con dei lanci lunghi o comunque proprio giocando in spazi aperti l'abbiamo fatto negli spazi stretti perché soprattutto nel primo tempo abbiamo visto degli scambi fra i giocatori nello stretto che sono stati veramente efficaci ma proprio belli da vedere come ne abbiamo visti sia con Sarri che con Spalletti sinceramente è stato veramente un bel vedere perché poi quella si vede che è una partita tatticamente preparata anche le uscite tra Spinazzola e Lobotka se non funzionavano si passava dall'altra parte molto agilmente le verticalizzazioni di Lobotka sono state chiave in questa partita due o gol nel primo tempo si sono originati per la verticalizzazione immediata di Lobotka in uscita dal pressing del Palermo quello è stato l'aspetto della partita che mi ha soddisfatto di più perché fino a questo momento non avevamo ancora visto il Napoli di Conte come si comporta quando vuole dominare la partita cosa che per l'appunto è possibile non come hanno detto vari soloni tra calcio spettacolo e calcio champagne che dicevano che il Napoli di Conte avrebbe fatto solo quello difese e contropiede è probabile che ci saranno partite da difese e contropiede come abbiamo visto con la Juventus ma ci saranno anche tante partite così e il fatto che il mister sia riuscito a farlo in poche partite mi rende contento per me questo è proprio il segreto delle grandi squadre per esempio il Real Madrid con questa cosa il fatto di avere più piani gara e non soltanto uno solo e quindi gioco sempre allo stesso modo con tutti gli avversari perché sono il Real Madrid per fine il Real Madrid cambia piano gara in base all'avversario e quello secondo me è il segreto loro che li hanno portati a vincere tutti quei trofei vabbè pure i giocatori forti che ce l'hanno sempre avuto però per esempio in questa partita hai detto bene tu abbiamo visto un Napoli molto più dominante tecnicamente anche perché gli uomini che abbiamo messo in campo probabilmente sono qui la più forte che abbiamo in rosa in questo momento tecnicamente parlando a parte Kvara che mancava per il resto c'è pure il centrocampo Gilmour Lobotka penso che è il centrocampo più qualitativo che possiamo mettere in questo momento Raspa con Gong e David Neres ma pure Spinazzotti sono tutti i giocatori ma pure Rafa Mare qualitativamente parlando ti dovevano fare solo una prestazione del genere sono quelle delle loro armi mentre per esempio quando è entrato Lukaku subito lancia Lukaku che poi è stato bravo a mettere la palla in mezzo a McTominay che è bravo ad inserirsi a fare quello che sa fare lui quindi alla fine Antonio secondo me semplicemente vuole far giocare i giocatori in base alle loro caratteristiche cioè non vedremo mai uno che fa una cosa che va in contrasto con le proprie caratteristiche probabilmente e questo secondo me è una è una buona cosa anzi buonissima cosa perché ognuno deve fare quello che sa fare cioè io non devo andare a snaturare Neres Neres deve giocare come sa giocare non devo andare a snaturare Ngong perché poi ti fanno prestazioni del genere a me mi ha fatto rire quello nel primo tempo che cioè Ngong aveva appena fatto due gol però stava parlando del fatto che ecco però vedi non è tornato ah boh se non torna e mi fa due gol io gli stringo la mano e dico vai continua così cioè veramente questi discorsi sul fatto dell'equilibrio che poi non torna a difendere Ngong mi fa rire però va bene voglio partecipare a questo giochino io sono sicuro che ci saranno tanti magari non sotto questo video perché devo essere sincero sono abbastanza fiero della fanbase che abbiamo creato ma sono sicuro che ci saranno tanti che parleranno di come ci esaltiamo per una vittoria contro una compagine di serie B vi voglio ricordare che negli ultimi due anni siamo usciti con due comprovate compagini di serie B come Corrimonese e Frosinone peraltro pure una che ci ha battuto 4 a 0 in casa nostra quindi direi che non è questo il discorso il discorso è che questa squadra doveva ritrovare la fame di vittoria anche in partite che magari possono essere considerate scomode e anche quando entrano in campo giocatori non di prima fascia e questa cosa io l'ho vista perché ho visto il sangue negli occhi nei giocatori che non hanno giocato tutte le partite fino a quest'anno e che dovevano dare prova di sé ma pure il sangue negli occhi dei giocatori che sono entrati nel secondo tempo che si sono visti un attimo minacciati si sono sentiti minacciati dai panchinari tra virgolette che hanno giocato oggi ma tanto è sempre così quando affronti queste squadre che sono sulla carta nettamente inferiori se fai una partita è merda e magari vinci con un golletto a mazzo e che figura è merda se vinci esageratamente che cosa ti salti a fare tanto è il Palermo però io so soltanto che nelle ultime quattro gare abbiamo fatto 3 a 0 con Bologno 2 a 1 con il Parma 4 a 0 con il Cagliari 0 a 0 con la Juve e 5 a 0 con il Palermo quindi l'unica partita dove non abbiamo trovato gol ed è stata una partita noiosa tra virgolette è stata la Juventus quindi siete sicuri che il problema di Juventus Napoli è stato il Napoli? domanda io vorrei ricordare invece dall'altra parte Euterz Parigi 0 a 0 consecutivo io due domande me le farei e mi darei anche 4 o 5 risposte perché sono proprio chiare vabbè sono soddisfatto non vi perdete il pagellone che uscirà domani dove ovviamente andiamo a valutare nel dettaglio tutte le prestazioni dei giocatori lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi condividetelo così ci aiutate a crescere come canale e forza Napoli sempre a you volevo chiudere con una cosa aspetta io poi l'ho lasciato sul filo ma secondo voi McTomeny sta feltrando con noi prego che è feltrando? feltando ah flertando flertando con noi io sarei eterosessuale ti sei bagnato potrei potrei pensarci adesso lo capisci a Ruggero quando lo vedeva giocare nell'Ognuno è vero è vero lo capisco è così è così mamma mia Scott l'Ognuno